Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Se parlo di continuità territoriale e trasporti, lasciamo perdere perché in questi cinque anni la situazione è peggiorata. Io penso che sia questo. Per rispondere alla domanda, io penso che sia soprattutto questo. Poi senz'altro anche quello che è accaduto nelle ultime settimane fa venire una domanda. Giorgio Meloni si assumerà la responsabilità di questa sconfitta perché è troppo facile che se la prenda tutta Paolo Truzzo. Ma non è che sia autocandidato Paolo Truzzo. Lei con una forzatura l'ha imposto con arroganza e questa regione ha risposto. Seta Schlein, a proposito invece di coalizione, oggi le viene riconosciuto, lei è stata coraggiosa.